Amici dei fuoricampo, buonasera e ben ritrovati qui con voi Davide Marchiol. Si è chiusa la stagione di Serie A 2022-2023. Io ormai inizio ad avverne talmente tanti di anni che inizio anche a confonderli, ma questa è la 2022-2023. Si è chiusa la stagione di Serie A. Sappiamo anche le ultime due squadre che andranno a comporre il roster della massima categoria dell'anno prossimo e dalla Serie B viene su il Cagliari, che batte il Bari nella parietà di ritorno della finale play-off. Avete il video di Davide Martini che vi invito ad andare a vedere dopo aver visto ovviamente questo. Ha visto lui la partita e l'ha analizzata lui per noi. Per chi invece volesse avere qualche aggiornamento in più su Spezia-Verona, c'è questo video, ho seguito io la partita e a vincere è stata la squadra Veneta per 3-1 battendo lo Spezia di semplice, condannando alla Serie B. Quindi l'Ella si resta su, lo Spezia va giù. Ovviamente felicità per i tifosi giallo-blu, spiace per i Liguri che ritrovano la cadetteria dopo la promozione firmata italiana ai play-off. Una partita, devo dire, abbastanza tesa, con tanta frenesia, tantissime occasioni, ma adesso ne parliamo. Una partita tesa, già devo dire, ancora prima nella scelta solo, anche solo, dello stadio. Inizialmente era stato individuato il Dacia Arena di Udine, perché nel novero degli stadi scelti, nelle stadi papabili, il Mappei Stadium, che era il più adatto all'evento, aveva la finale play-off, aveva la finale scudetto del venerdì, della primavera, però è chiaro che il Dacia Arena presentava delle scomodità oggettive e questo più che altro, ovviamente, è buono per il Mappei Stadium, perché è un impianto moderno, però accende anche un attimino un problema sul fatto che tutti gli altri in zona, evidentemente, non sono modernati. Ecco, il fatto che lo Stato non andrà a sovvenzionare gli impianti che non vengono coperti dal PNRR è l'ennesimo segnale pessimo per il futuro del nostro calcio, ve ne ho parlato anche in live, sapete che mi piace spesso anche discorrere un po' del futuro pallonaro italiano, bene le tre finali, però ecco, sulle infrastrutture, prima o poi toccherà fare qualcosa, perché iniziamo ad essere a dei livelli inaccettabili. Prima di cominciare con l'analisi, però, di Spezia Verona, che è quello che ci interessa veramente, il mio invito è sempre quello, come canale ci proponiamo di curare al meglio le realtà sotto più o meno le prime sette della Serie A, quindi squadre di metà classifica, bassa classifica della Serie A e cadetteria. Poi ovviamente in live curiamo anche e parliamo anche delle grandi, quindi di Milan, Inter e Juve. L'invito è quello di iscrivervi per gratificare questo nostro sforzo, perché chiaramente se i grandi media non seguono tanto tante squadre, purtroppo ragazzi, un motivo c'è, un motivo c'è e i numeri parlano chiaro, ma se vi iscrivete i social hanno questa potenza di dare senso anche a un progetto come questo, per ora ci state gratificando molto, continuate così, lasciate un like se vi siete già iscritti, e ditemi i commenti della vostra sulla partita, su di noi, sul nostro canale, su cosa dovremo migliorare, è un po' anche un video di fine 2022-2023, per quando settimana prossima cominceremo già con quelli di mercato, quindi vi aspetto nei commenti. Detto questo, Spezella-Sverona, spareggio-salvezza, Liguri che ci si ritrovano un po', non dico inaspettatamente, però ecco, durante l'anno avevano fatto capire di avere i mezzi per potersi salvare con un po' di più di tranquillità, mentre il Verona arriva a questo spareggio di slancio, di inerzia, e forse proprio questo è inciso anche sulla partita, perché c'era palesemente una squadra, lo Spezia, molto nervosa, molto impacciata in diversi episodi chiave, mentre il Verona mi sembrava più sulle ali dell'entusiasmo, per quanto forse in alcuni ruoli, con qualche punto in meno dal punto di vista della tecnica, ma mi sembrava un po' più libera, paradossalmente, mentalmente, per quanto è una partita come questa, ogni pallone pesi come una palla medica. Spezia che si è approcciato anche alla gara con tantissime assenze, e per quello che è stato in 90 minuti, non può essere una giustificazione, perché già nel primo tempo la parete è segnata, ma è chiaro che non avere nove pezzi per semplici è qualcosa di pesante, comunque se una squadra è piccola, è piccola per un motivo, quindi nove pezzi in meno sono tanti, e anche non vedere giocatori come Simone Bastoni, come McDal, che c'era ma era acciaccato e infatti non era nemmeno entrato in partita, non avere Jazz, non avere Amian, insomma, diversi ragazzi che potevano dare decisamente una mano, decisamente una mano, per quanto lo Spezia comunque metta un discreto 11 in campo, però io già dalle informazioni iniziali ho visto una difesa abbastanza rattoppata, perché Ampadu non è assolutamente un perno centrale, ok i jolly nel calcio, però questo è un braccetto difensivo di una difesa 3 che può fare anche il mediano, perché ha un'intensità tale da mediano, ora chiedergli anche di fare il perno della difesa 3, secondo me è eccessivo, però è anche chiaro che i mezzi erano quelli, perché Caldana non c'è, Amian non c'è, insomma, il suo Spezia è arrivato corto e chissà che la società non stia ancora ripensando al mercato di gennaio, dove ha dato via Kivero per 25 milioni, tanti soldi all'Asenal, ma ha perso anche forse il suo pezzo migliore davanti a Drongovski. Perché ho parlato tanto di Ampadu? Perché credo, non dico sia il one man show, ci mancherebbe altro, perché ci sono 22 giocatori in campo, ma entra un pochettino in quasi tutte le azioni più pericolose, subito al quinto minuto, bello scambio, con una palla che da una corsia viaggia all'altra, per il classico gioco un po' da difesa 3, centrocampo a 4 a 5, palla da una fascia per l'altra, arriva a farone rimorchio, perso da tutti, tiro, Ampadu c'è, la svirgola direttamente in rete, questo secondo me fa capire che il ragazzo era tutt'altro che tranquillo in partita, e ripeto, io col seno di poi, boh, forse avrei provato qualcos'altro, ma è chiaro, non faccio allenatore, lo fa semplici, che ha molto più curriculum decisamente di me, è chiaro che però, secondo me, insomma, la tranquillità mentale del ragazzo non c'era, devo dire, dall'altra parte invece nel Verona, fin da subito, visto che lo Spezia faceva fatica a gestire la fisicità di Djuric, è un giocatore dalle caratteristiche molto particolari, perché magari tecnicamente non è uno spettacolo, però è chiaro che fisicamente, soprattutto per Ampadu, che spesso è andato a prenderlo, c'era un mismatch devastante, e nel gioco di sfonda, Djuric, soprattutto nella prima mezz'ora, ha fatto vedere i sorcivedi allo Spezia, credo sia un dato di fatto, così come sulle mana, ci ha messo molta più grinta dei centrocampisti dello Spezia, ed è entrato appunto, con merito, nell'azione del secondo gol, perché poi, appunto, oltre a Djuric, si accendono sulle mana, se c'è anche in Goncia, che ha fatto una partita, direi, egregia, coronata come una doppietta, di palle e gol, ce ne sono state talmente tante, che non è che ve le racconto uno ad una, perché sennò farei, veramente, un racconto, una cronistoria della partita, perché ci saranno state dieci palle e gol, in totale, però, sì, una partita che, ecco, viene, il ritmo viene deciso anche dal fatto, che si sblocchi subito, queste gare spesso sono magari delle partite tattiche, dove una delle due squadre ha paura di sbagliare, forse ecco, lo Spezia ha avuto paura di sbagliare fin da subito, alla fine ha fatto la, e ha fatto la frittata, Reza sfiora il pari, con una bella conclusione, che termina sul fondo, facendo anche un po' di, venire un po' di paura a Montipò, poi però, sì, lo Spezia, ripeto, c'è, Ampadu trova un pareggio fortunoso, con un bel volide, che trova una doppia deviazione, e va nel 7, non mi è parsa una reazione dello Spezia ordinata, mi è parsa più una reazione di frenesia, dovuto allo svantaggio, infatti l'1-1 non è che duri tanto, perché dura appena, adesso vedete, 11 minuti, 11 minuti, perché poi, ripeto, sulle mana si accende, bella percussione, fortunata anche, anche sfortunata, perché rischi anche di prenderla con un braccio, tant'è che c'è un check del VAR, però sulle mana ci mette quella voglia, quella grinta che forse i centrocampisti dello Spezia non hanno, lo scambio tra Diuric e Ingonge, poi è in alta scuola, e il diagonale di Ingonge, va a battere Montipò, facendo tornare in vantaggio il Verona, che se prima aveva alternato delle palle e gol per chiudere la partita, ha dei momenti un attimino di panico per le reazioni dello Spezia, dopo il 2-1 chiude abbastanza i giochi, se non per un squillo di Wisniewski, ma ci ha pensato Faraoni a salvare, addirittura poi al 38esimo arriva addirittura il Tris, con ancora la solita verticalizzazione, perché è lì che ha sofferto la speciale verticalizzazione per Diuric, Diuric riesce poi a favorire l'azione di Ingonge, che parte in velocità, punta ancora Ampadu, e sul tiro Ampadu è troppo molle, è troppo molle, la deviazione spiazza Drongovski, che era sul primo palo, c'era, con la deviazione niente, anche Drongovski, devo dire, in realtà abbastanza insicuro nel primo tempo, però lì c'è anche un bel po' di collaborazione di Ampadu. Nella ripresa del bisogno di Riatto allo Spezia, che ci mette coraggio, però il Verona si abbassa nel modo giusto, si abbassa senza soffrire troppo, e dove non ci arrivano comunque i difensori, c'era Montipò, perché lo Spezia prova qualche conclusione, soprattutto dalla media distanza, ma non parla un impossibile per un portiere comunque di discreto livello come Montipò, nulla ancora di eccesso, però comunque Montipò è un portiere abbastanza interessante, e quando c'è stato da metterci la palla, il Maestri sta, c'è la messe, e soprattutto para un rigore, perché il vero episodio dove può cambiare un po' tutto il mio discorso, è quello del 69esimo, quando Shomurodov con un pallonetto scavalca tutti, Faraoni alla disperata, mi ricordate un po' Ceccaroni in Venezia-Verona, sinceramente, alla disperata con una mano alla leva, l'arbitro vede tutto, rosso, calcio di rigore, ed è un po' la chance in quindolà, uno dei grandi assenti della serata, potrebbe cambiare un po' le inerzie, tira veramente un rigoraccio, perché lo tira piano, non è angolato, Montipocci non la blocca, la devia, ma veramente un rigore calciato malissimo, non voglio togliere meriti al portiere ex Benevento, mi pare, comunque del Verona, ma un rigoraccio, che dimostra come, secondo me, mentalmente alcuni dei perni di questo spezia non ci fossero, perché Shomurodov ci prova, ma anche male, ma almeno ci prova, in quindolà, si veda pochissime fiammate, anche Salvatore Esposito, si è visto abbastanza poco, dietro, ripeto, ha un pad, un disastro, nella parità più importante dell'anno, per quanto chiuda con una traversa, credo che siano proprio state le due inerzie differenti, a determinare questo risultato, perché secondo me, a livelli assoluti, lo spezia ha qualcosa in più, però, passare da un più 8, mi pare, comunque lo spezia, a un certo punto, aveva anche un vantaggio così, un vantaggio consistente sul terzo, ultimo posto, dite che Gotti non sembrava in dibilico, poi questo vantaggio, si è mano a mano, è stato andato rosicchiandosi, Gotti viene esonerato, arriva semplice, che non cambia più di tanto le cose, e quando arrivi così incalando alla parete più importante, tendenzialmente ti porti certi problemi anche in campo, mentre il Verona era dato da un po' tutti per spacciato, soprattutto nel periodo in cui Concioffi non riusciva a trovare il bando della Matassa, poi un po' alla volta, punto per volta, con anche i tasselli giusti nel mercato di gennaio, nulla di eccatante, non ci sono stati spese folli, un gongio e buon giocatore secondo me non è un fenomeno, ma comunque giocatori giusti per quello che serviva al Verona e per la lotta a salvezza, e così ha costruito questa impresa, perché ripeto, il Verona lo davo anch'io a un certo punto per spacciato, invece un po' alla volta ha ritrovato certi giocatori, ha messo questa ciliegina in gonge, Diuric, ripeto, in queste parete qua è tremendo da prendere, lo sappiamo anche a Venezia dove ci ha fatto piangere più di qualche volta, quindi ripeto, Verona resta su, con merito, adesso capiremo il futuro, perché se ti continua ad essere più in vendita che alla guida del Verona, quindi capiremo un po' quest'estate come si muoveranno già i Veneti, chiaro che avranno succedere in Serie A, però cambia le prospettive, vedrei, quindi lato udinese capiremo cosa farà il Verona, e che comunque quindi resta anche il derby del Triveneto, lato venezia invece vedremo lo spezia degli americani, amici di Niederauer, che il mercato farà in Serie B, se farà un mercato di quelli per risalire subito con una certa maniera, o se farà un mercato un po' all'americana, tanto fumo e un po' poco arrosto poi ecco, quindi due realtà da seguire anche per come costruiranno le due squadre, perché per lo spezia si è stato di un ritorno in B con gli americani, cosa che prima non c'era, per il Verona si è stato in una permanenza con comunque una società in vendita, che non è mai semplice detto questo, e vi ringrazio per l'attenzione, un saluto alla prossima, e ci vediamo con i prossimi nostri contenuti, ciao!